Il Signore sia con voi, dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù riprese a parlare con Parabole ai capi dei sacerdoti e ai farisei, e disse Il Regno dei Cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i Suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine. Dite agli invitati, ecco ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto, venite alle nozze. Ma quelli non se ne curavano. E andavano chi ha il proprio campo, chi ha i propri affari. Altri poi presero i Suoi servi, li insultavano e li uccisero. Allora il re si indignò. Mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai Suoi servi, la festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze. Usciti per le strade, quei servi radunavano tutti quelli che trovavano, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava l'abito noziale. Gli disse, amico, come mai sei entrato qui senza l'abito noziale? Quello ha muto lì. Allora il re ordinò ai servi, legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre. Là sarà pianto e stridore di denti, perché molti sono chiamati, ma pochi eletti. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Mi capita spesso di trovare persone lontane, lontane dalla pratica, con cui magari parlo una volta e che non rivedrò più. E allora cerco di centrare il dialogo sulla fede e sulla pratica. Sulla fede che spinge alla pratica e sulla pratica che nutre la fede. E allora delle volte alla domanda, ma ci vai a messa la domenica? Alcuni rispondono, sì, sì, ci vado. E siccome non mi accontento, domando, ma ci vai tutte le domeniche? Beh, non esageriamo tutte le domeniche, no? Per alcuni andare a messa la domenica vuol dire andarci ogni tanto, no? Neanche la metà delle volte. Però facendo così si perde il frutto della pratica, della fede di questa pratica che è la messa festiva. Infatti c'è una continuità nella liturgia della Chiesa. Se si perde la continuità, si mangiucchia qui e là, ma non ci si nutre veramente. Si fa qualche sgambata, no? Ma non si fa un cammino, non si segue un percorso. Allora è importante cogliere il percorso. Nel Vangelo di oggi c'è un elemento o più elementi di continuità con i Vangeli delle ultime domeniche. Un elemento di continuità è, senz'altro, il linguaggio parabolico. Gesù illustra il mistero del regno di Dio, del regno dei Cieli, come lo chiama Matteo, con parabole, cioè con metafore. Per esempio, cinque domeniche fa si spiega a Pietro, a Pietro che è chiamato a esercitare in modo esemplare la misericordia, che tutti noi siamo debitori di una somma ingente, impagabile a Dio, i famosi diecimila talenti. E quindi non possiamo poi essere crudeli, severe, esigere i cento denari dal nostro prossimo. La domenica dopo la parabola è quella del padrone di casa che ha solda abbraccianti per la sua vigna e poi li paga a tutti, perché è un uomo un po' bizzarro, li paga a tutti con la paga sindacale, senza dare i primi ai primi. Il tema della vigna ritorna anche la ventiseiesima domenica. Questa volta è un padre di famiglia, non una tifondista come la domenica prima, che ha una piccola vigna, ha due figli e chiede loro di andare a lavorare. Nella vigna uno ammette, confessa, dichiara sfaccettamente che non ne ha voglia, ma poi ci va l'altro, invece dimostra una secchiosa obbedienza a parole, ma poi tradisce la parola data e sfugge al lavoro nella vigna. Domenica scorsa ritorna il tema della vigna, questa volta invece è un uomo che la dà in affitto, che prende le distanze. Dalla sua vigna, però, giustamente quando arriva il tempo, esige dei frutti che invece i vignaioli perfidi non vogliono darli e vengono severamente puniti. Questa parabola, come la precedente, è rivolta ai capi del popolo. Oggi non si parla più nel Vangelo di oggi, nella parabola di oggi, non si parla più di lavoro nella vigna. Ma i destinatari sono sempre i capi, i capi di Israele. Si parla di una festa. E così come nella domenica precedente, il tema del lavoro viene sviscerato in vari modi, ma Gesù puntualizza che il lavoro va fatto in un certo modo, va fatto da figli di Dio, va fatto rendendo frutti a Dio e non trattenendoli per sé. Qui invece si parla di una festa. Ma c'è di nuovo un elemento di continuità. L'elemento di continuità è legato proprio a quelli che sono i primi destinatari. I capi del popolo hanno tradito l'alleanza, l'alleanza del Dio di Israele con il suo popolo. Lo hanno tradito perché sono come il figlio che dice sì, signore, ma poi non fa. Lo hanno tradito perché a loro è stata affidata la vigna, ma non rendono a Dio il fruttore dovuto. E lo tradiscono perché quando Dio, il padre, manda il suo figlio a raccogliere i frutti della vigna, domenica scorsa, oggi, per la festa di nozze tra Dio e il suo popolo, questi uomini rifiutano il figlio. Questi uomini sono quelli che poi rifiuteranno, non crederanno a Gesù, anzi, siccome urta la sua predicazione, le cose che fa, la sua persona urta i loro interessi, lo consegneranno a Ponzio Pilato perché sia tolto di mezzo, perché sia crocifisso. Allora è chiaro che queste parabole la Chiesa ce le propone, non con una prospettiva archeologica per spiegarci, che ne so, perché Cristo è stato messo a morte o come vivevano male l'alleanza, questi capi del popolo, ma perché lo applichiamo a ciascuno di noi, al nostro modo di lavorare, al nostro modo di fare festa, la domenica, il primo giorno della settimana, al nostro modo di vivere da figli di Dio che delle volte hanno voglia di lavorare, delle volte hanno voglia di fare festa, altre volte non ne hanno voglia, hanno voglia di stare per proprio conto e non di fare festa, hanno voglia di lavorare nei propri affari e invece Dio ci chiama a lavorare nella sua vigna. Hanno voglia di riposare e invece Dio ci chiama al lavoro, ma al lavoro non da schiavi, ma da figli, in una prospettiva che è quella della vita eterna. La vita eterna è il denaro che viene dato non in premio ma in rimunerazione agli operai che hanno lavorato dall'alba piuttosto che da poco tempo prima del tramonto. La vita eterna è simboleggiata in questo banchetto delle nozze. Qui bisogna arrivare vestiti, rivestiti dell'abito noziale. Questa parabola finisce in modo un po' cupono con questo uomo che è entrato, che è stato chiamato, invitato e accettato l'invito alla festa, ma che poi si dimostra indegno e viene gettato fuori. E Gesù conclude molti sono chiamati ma pochi eletti. molti sono chiamati in un modo semitico di dire tutti sono chiamati. Nessuno è escluso. Non solo i ricchi, i notabili, no? Ma anche gente di ogni risma che sta ai crocicchi delle strade. molti, tutti sono chiamati ma quelli che arrivano alla beatitudine eterna sono quelli che sono rivestiti dell'abito noziale, che lottano per vivere le virtù, che si sentono e vivono, lottano per vivere da figli di Dio. Allora questo banchetto di cui parla il profeta Esaia, che profetizza Esaia, questo banchetto in un certo senso è già pronto. L'ha organizzato il padre mandandoci, donandoci il figlio venti secoli fa. in un altro senso avrà un compimento escatologico, come si dice, alla fine dei tempi, alla fine della storia, alla fine della storia personale di ciascuno di noi con la morte e con il giudizio, appunto nella vita eterna. Abiterò per sempre nella casa del Signore. Questa è la nostra fede che dobbiamo nutrire. Se manteniamo salda questa fede, se non ci lasciamo rubare questa speranza, se la fede opera per mezzo della carità, allora arriveremo a sentire come San Paolo, a sentire proprio dentro, no? Queste bellissime espressioni e concludo che scrive ai filippesi so vivere nella povertà come so vivere nell'abbondanza. Sono allenato a tutto e per tutto, alla sazietà e alla fame, all'abbondanza e all'indigenza. Tutto posso in colui che mi dà forza. davvero e se facciamo nostro questo spirito apostolico potremmo dire al Signore tutto posso in te che me ne dai la forza, che me ne avrai per l'intercessione della Madre Tua e Nostra Maria Santissima. Comissia. Amo. Amo.